Buongiorno da Sicilia24 e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio e Notizia che apriamo parlando di cronaca. È stato come sempre una fine settimana di controlli nelle città da parte delle Forze dell'Ordine a Catania. Ovviamente i carabinieri hanno effettuato degli approfonditi controlli. Il bilancio parla di 11 persone denunciate e diverse sanzioni elevate. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Catania Fontana Rossa, supportati dai colleghi del XII Reggimento Sicilia e in collaborazione con il personale dello Spresal della Polizia Locale di Catania, nonché delle distribuzioni, sono stati impegnati in un servizio a largo raggio di contrasto all'illegalità diffusa e di verifica del rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro nelle attività commerciali. Le attività di verifica hanno riguardato diverse attività commerciali, tra cui un'officina di via Zia Lisa, il cui titolare, un sessantenne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. L'uomo è stato anche sanzionato amministrativamente per un importo di 23.500 euro per violazioni accertate dai militari relative all'assenza del locale spogliatoio, alla presenza di estintori non revisionati, nonché di attrezzature da lavoro non conformi. All'interno dell'officina, al momento del controllo, è stata riscontrata la presenza anche di sei lavoratori in nero e tale circostanza ha fatto scattare nei confronti del titolare una maxisanzione di 10.800 euro. Analoga attività ispettiva, effettuata presso una carrozzeria nella stessa strada, ha consentito ai carabinieri di denunciare il titolare, una settantenne catanese, per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e violazione delle norme in materia ambientale, in quanto è stata riscontrata all'interno dell'attività l'assenza del locale spogliatoio e degli estintori con conseguente ammenda dell'importo di 16.500 euro. I militari operanti hanno anche sottoposto a sequestro un'area esterna adibita a deposito incontrollato di rifiuti speciali, nonché al sequestro di attrezzature e vernici. L'attività commerciale è stata temporaneamente chiusa per mancanza della scia, con applicazione di una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro. Il titolare di un'altra officina meccanica, un 46enne catanese, è stato denunciato per violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. La sua attività commerciale, ubicata in una traversa della stradale San Giorgio, è stata chiusa temporaneamente per mancanza della scia, con applicazione di una sanzione amministrativa di oltre 5.000 euro, oltre al sequestro di tutte le attrezzature presenti. Le verifiche effettuate con il personale di e-distribuzione si sono concluse con la denuncia per furto aggravato di un 46enne catanese titolare di una barberia ubicata in zona Zialisa. Il personale tecnico della società di distribuzione ha accertato che l'attività commerciale aveva un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica, con un danno stimato per la società di distribuzione di circa 16.000 euro. I medesimi controlli, effettuati presso uno stabile di via a terre forti, hanno portato al deferimento di quattro persone resesi responsabili del reato di furto aggravato per aver sottratto indebitamente energia elettrica, poiché ne usufruivano a contatore fermo, con un danno stimato per l'edistribuzione di circa 80.000 euro complessivi. I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai carabinieri di identificare una quarantina di persone e di sottoporre a verifica una trentina di veicoli, con la contestazione di una quindicina di violazioni al codice della strada e l'elevazione di sanzioni amministrative per un importo di oltre 15.000 euro. È scattata la denuncia per guida senza patente per tre persone, sorprese alla guida di autovetture senza aver mai conseguito la patente, poiché hanno recidivato tale condotta nel biennio, nonché il sequestro amministrativo ai fini della confisca dei rispettivi veicoli. Sempre a Catania, la Polizia di Stato ha effettuato dei controlli nelle zone della cosiddetta movida, ovvero i luoghi di maggiore aggregazione frequentati soprattutto dai giovani nel fine settimana e anche in questo caso sono scattate diverse sanzioni da parte degli agenti. Vediamo il servizio. Nelle serate della weekend appena trascorso, in attuazione delle direttive emanate in sede di Comitato per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, tenutosi in prefettura, il questore di Catania ha disposto complessi e articolati controlli nelle vaste zone del centro storico della città, divise al fine di migliorare l'efficienza operativa in tre aree corrispondenti di massima a Via Santa Filomena e Via Gemellaro, piazza Bellini e piazza Scammacca, piazza Federico di Svevia e piazza Currò. In queste aree operative sono stati dislocati equipaggi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coordinati da un funzionario di pubblica sicurezza che hanno vigilato sulle dinamiche collettive e operato diversi controlli nei confronti di soggetti in transito. Tali dispositivi, altresì, hanno costituito il supporto operativo per le squadre di Polizia Amministrativa della Questura, degli operatori della Nona, della Polizia Locale e per i servizi specialistici dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnati nei controlli agli esercizi commerciali di somministrazione alimenti e bevande. Inoltre, al fine di garantire le massime condizioni di sicurezza ai numerosi cittadini che hanno affollato la predetta area con apposita ordinanza comunale è stata chiusa al traffico veicolare la via San Giuliano nel tratto compreso tra via Manzoni e via Ventimiglia dove ha operato un congruo numero di pattuglie della Polizia Locale che hanno consentito il rispetto del previsto piano viario alternativo. Complessivamente sono state controllate 193 persone e 100 veicoli, sono state contestate 76 violazioni del codice della strada, 5 veicoli sono stati sequestrati, 8 sottoposti al fermo amministrativo e altri 10 veicoli fermati per mancanza della copertura assicurativa. Sono stati inoltre controllati 34 esercizi commerciali di cui uno sanzionato per carenza igienico-sanitaria dei locali cucina, uno per ampliamento dell'attività non comunicata, tre poiché aperti oltre l'orario consentito, uno per occupazione di suolo pubblico, uno al cui proprietario è stata sospesa la licenza per carenza igienico-sanitaria, sanzionato per occupazione del suolo pubblico e per mancanza dell'HACCP. In seguito a quanto riscontrato, sono state irrogate sanzioni per circa 5.000 euro. Controlli dei carabinieri anche ad Acireale, siamo sempre nella Catanese, in questo caso il bilancio parla di una denuncia, diverse sanzioni, ma anche di un soggetto tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della compagnia di Acireale sono stati impegnati in un servizio a largo raggio finalizzato al contrasto dell'illegalità diffusa dello spazio di droga dei reati contro la persona e il patrimonio. I posti di controllo effettuati nelle frazioni e in corrispondenza dei principali snodi viari hanno consentito di denunciare una 48enne di Mister Bianco per guida in stato di ebrezza. La donna, infatti, è stata controllata dai militari dell'arma alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico nel sangue superiore a quello consentito dalla legge, mentre hanno proceduto all'identificazione di 43 persone e sottoposto a verifica 16 veicoli con conseguente elevazione di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada per un importo complessivo di circa 2.000 euro. Tre giovani, successivamente segnalati quali assuntori alla prefettura, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre è stato attuato un vasto controllo delle persone sottoposte agli arresti domiciliari. È proprio in uno di questi controlli che i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Acireale hanno tratto in arresto in flagranza un 43enne, un pregiudicato di Acicatena, per evasione, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e ricettazione. I carabinieri, poco prima di accedere all'ingresso di uno stabile nei pressi di via Jacopone da Todi, hanno notato uscire da quell'area condominiale un uomo alla guida di un'auto, risultata poi oggetto di furto, riconoscendolo quasi subito perché è sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Acicatena. Il 43enne, pertanto, bloccato con l'auto dai militari e dopo aver visto uno dei carabinieri scendere dalla gazzella, ha inserito improvvisamente la retromarcia, rientrando nell'area condominiale e sfondando un cancello di un'uscita secondaria, guadagnandosi così la fuga. Ostacolati dalla presenza a terra del cancello di Velto, i carabinieri si sono immediatamente messi alla ricerca del fuggitivo, recandosi anche presso la sua abitazione di Acicatena, dove alcuni familiari di quest'ultimo hanno cercato di ostacolarne l'attività, impedendo loro l'accesso alle stanze per verificarne la presenza. Nonostante ciò, i carabinieri hanno visto il 43enne giungere dal piano superiore dell'abitazione e con estrema nonchialanza riferito loro di non essersi recato ad Acireale, salvo poi, quando i militari ne hanno riconosciuto sul letto e vestiti da lui poco prima indossati, andare in escandescenza con atti autolesionistici e continuando in tale comportamento fino anche all'interno dei locali della caserma accese, inducendo così i militari dell'arma a richiedere l'intervento di personale del 118. Il 43enne è stato poi ricondotto ai domiciliari su disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Cambiamo argomento e ci spostiamo virtualmente a Gela. La squadra mobile e il commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto quattro persone in esecuzione agli ordini di carcerazione emessi in seguito alla sentenza definitiva della Corte di Appello di Caltanissetta per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ricettazione e altro. I quattro arrestati, tutti i gelesi, devono scontare la pena della reclusione in carcere. Si tratta di un 31enne condannato a sei anni, un mese e 23 giorni, un 51enne e un 37enne condannati entrambi a cinque anni, undici mesi e tre giorni e un 57enne che deve invece scontare due anni, quattro mesi e venti giorni di reclusione. I predetti, dopo la cattura, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Caltanissetta. Ed ora invece c'è una notizia che arriva dal Siracusano. I carabinieri della tenenza di Florivia hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un giovane incensurato di 22 anni. I militari dell'arma, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 80 grammi di anfetamine nascosti in cucina all'interno di un barattolo. Pertanto, al termine delle operazioni, lo stupefacente è stato sequestrato mentre l'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. Cambiamo ancora argomento ma continuiamo a parlare di cronaca. È stato un weekend drammatico sulle strade siciliane. Un 34enne di Alcamo è morto sulla statale 113 a Partinico nel Palermitano a causa di un incidente che ha coinvolto due auto. Nel tragico scontro sono anche rimaste ferite tre persone. Una giovane donna di 27 anni invece è deceduta dopo un terribile scontro avvenuto sull'autostrada Palermo-Catania tra una moto e un'auto. Anche in questo caso, oltre al decesso, ci sono stati tre feriti. Insomma, un bilancio pesantissimo con due giovani vite spezzate. Notizia da Mazzara del Vallo dove un 52enne, un uomo violento, è stato invece arrestato per atti persecutori. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Mazzara del Vallo, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, hanno arrestato per atti persecutori un mazzarese di 52 anni. I militari dell'arma, impegnati in un normale servizio di perlustrazione, hanno ricevuto la richiesta di aiuto da parte di una donna, la quale, dopo aver chiesto l'intervento, specificando la via, ha riagganciato la telefonata. Percepito lo stato di particolare agitazione e paura, i carabinieri si sono precipitati sul posto trovando la donna con l'ex marito, soggetto conosciuto agli operanti per i diversi precedenti di polizia a cui è gravato, intento a minacciare di morte l'ex moglie. In evidente stato di alterazione, psicofisica dovuta presumibilmente all'assunzione di sostanze alcoliche, l'uomo ha provato ad aggredire l'ex convivente venendo prontamente bloccato e arrestato dai carabinieri. Al termine delle formalità di rito e a seguito del giudizio direttissimo, il 52enne è stato sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l'applicazione del braccialetto anti-stalking. I carabinieri della stazione di Favignana hanno invece tratto in arresto per i reati di rapina, ricettazione, lesioni personali, un pregiudicato trapanese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale presso la Corte di Appello di Palermo dovendo lo stesso espiare una pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione per i predetti reati commessi a erice tra il 20 e il 21 settembre del 2012 per il la cinquantenne che già nel 2016 era stato arrestato per un tentato furto presso l'ex sala ricevimenti Villatina si sono aperte le porte del carcere Pietro Cerulli noi ci fermiamo qui questa era l'ultima notizia ma ovviamente ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24 grazie